e autrice di stampe bert morisot fu una figura centrale dell'impressionismo non c'è dubbio l'artista realizzò opere di vario genere ma fu soprattutto nelle scene domestiche in cui diede il proprio meglio la contraddistingue infatti una grazia e una femminilità unica supportate da una tecnica delicata e piena di vita un esempio l'opera che vedete qui la culla il dipinto conservato al muse d'orsè a parigi è un olio su tela realizzato nel 1872 quando la donna ormai era avviata nella sua carriera di pittrice pochi di voi forse lo sapranno ma bert aveva nel proprio dna una discendenza molto illustre nel campo dell'arte era infatti la pronipote di jean honore fragonard il celebre pittore del diciottesimo secolo importante esponente del rococò francese la morisot fu allieva musa di édouard manet che diventò suo cognato e che esercitò sulla pittrice una forte influenza in seguito un altro artista che ispirerà la donna sarà renoir espose molto spesso assieme agli impressionisti ma non c'è dubbio che il suo stile mantiene sempre una delicatezza tutta femminile che all'epoca nessun pittore uomo era mai riuscito a fissare sulla tela la culla è la dimostrazione di ciò nell'opera vediamo una giovane madre che veglia amorevolmente il figlio tormentato nella culla tutto il dipinto è permeato da una tenerezza e un amore quasi palpabili lo percepiamo dall'attenta disposizione delle due figure ma anche dalla sottile armonia dei colori nella delicatezza delle pennellate ci sorprende la sensibilità con cui bert ha trattato le diverse superfici il verlo trasparente trappeggiato sulla culla e la tenda di raso dietro alla donna che è la sorella dell'artista ogni elemento quindi concorre a creare un senso di intimità evocando un immaginario di vita domestica molto reale in fondo nello sguardo attento di questa donna si medesimeranno moltissime madri uno sguardo che racchiude già una sottile malinconia e apprensione per ciò che il figlio un giorno dovrà affrontare nel mondo esterno per il momento però nulla sembra scalfire la pace e la serenità di questa morbida culla se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando iscriviti al canale